Buonissimi risultati e quindi siamo molto contenti soprattutto del risultato, partita che abbiamo fatto molto bene dal punto di vista sia mentale che dal punto di vista tecnico, abbiamo gestito bene le situazioni di battuta, andando bene a centrare gli obiettivi, siamo riusciti a difendere e anche a contrattaccare, cosa che c'era mancata un po' soprattutto nel terzo, nel quarto sette, la partita con la Francia dove abbiamo creato delle occasioni dove siamo riusciti a chiudere i punti e quindi è una partita che l'abbiamo giocata molto bene e siamo molto contenti di aver vinto. Inoltre, secondo lei ha pesato nella testa gli avversari il fatto di aver già vinto una partita come questo, un'altra partita che ha già dimostrato di poter essere più forte? A noi? Ha pesato a noi aver vinto a tutti? Per tutti e due direi, forse no. Io non lo so, perché io su questi temi qua a me non piace, a me piace fare l'allenatore, a me piace cercare di capire psicologicamente qual è, credo che dal punto di vista psicologico o mentale un allenatore possa solo cercare di capire in che condizione è la sua squadra e toccare il tasto giusto se identifica uno stato d'animo di un tipo piuttosto che di un altro. Però poi anche il perché può scaturire uno o l'altro stato d'animo, questo no. L'importante è identificare se la squadra ha bisogno di un aiuto o sembra, ti sembra e come farlo. Però non lo so, onestamente quanto influisca in questo risultato e risultati di World Cup né in noi né in loro, non lo so dire. So che noi volevamo vincere, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo per farlo, ci siamo riusciti a questo punto di più. La Slovenia è una squadra con giocatori che molto tempo che giocano in Italia, che hanno fatto molto bene in Italia, che sono esperti, che sono grandissimi attaccanti, grandissimi battitori. È una squadra che è in semifinale non per caso, ottimamente allenata e quindi è una sfida insidiosa perché la Slovenia è una semifinale, e quindi quello aggiunge delle cose a noi e a loro e quindi l'unico pensiero adesso è prepararsi da tutti i punti di vista il meglio possibile per quella partita lì. Quanto vi ha aiutato a giocare a Bust? Quanto ci ha aiutato a giocare a Bust? Stasera tanto, stasera il pubblico era veramente caloroso, veramente un supporto importante e quindi chiaramente questo crea delle condizioni anche dal punto di vista dell'eccitazione che sono importanti e quindi di questo ringraziamo il pubblico perché stasera davvero ci ha aggiunto quella spinta in più. Grazie.